Sono Francesco, sono Seriana, ciao sono Giuseppe, sono Giorgia, sono Valentina e sono una volontaria della Croce Rossa italiana. Oggi consegnerò dei beni di prima necessità al signor Andrea e al signor Stefano. Ho appena finito il mio turno in ambulanza. Siamo pronti tutti i giorni a intervenire per le persone più vulnerabili e bisognose. Ho appena finito il mio turno di pre-triage al pronto soccorso. Mi occupo di ricevere le chiamate per il servizio pronto farmaco. Oggi ho consegnato medicina a casa della signora Carmela. È un servizio che facciamo tutti i giorni per assistere e aiutare i più vulnerabili. Volevo solo dirti grazie perché stai facendo da tua parte restando a casa. E se esci lo fai perché è necessario. Stai proteggendo i tuoi cari e i cari di molte altre famiglie. Grazie al tuo impegno stiamo salvando molte vite. E chiediamo a tutti di fare la vostra parte. Quindi voi restate a casa che al resto ci pensiamo noi. Insieme ce la stiamo facendo. Sappiamo che è difficile ma stai facendo la differenza. Grazie a tutti.